A quanti oggi vogliono vedere Gesù, possiamo offrire tre cose, il Vangelo, il Crocifisso e la testimonianza della nostra fede. In occasione dell'Angelus, nella quinta domenica di Quaresima, Papa Francesco ha nuovamente voluto donare, a quanti sono accorsi in piazza San Pietro, una copia tascabile dei Vangeli, consegnati da 300 senza tetto. Un piccolo gesto per incoraggiare tutti a nutrirsi della parola di Dio ogni giorno, per riuscire a vedere anche nell'oggi il Figlio di Dio, come i greci di cui ci parla il Vangelo odierno. Nell'approssimarsi alla Pasqua, il Pontefice ha ricordato che l'ora della croce è la più buia della storia e anche la sorgente della salvezza per quanti credono in Lui. Dopo la preghiera mariana, Papa Bergoglio ha nuovamente ringraziato quanti hanno partecipato all'organizzazione della visita pastorale compiuta a Napoli e ha ricordato la giornata mondiale dell'acqua, indetta dalle Nazioni Unite. L'acqua è l'elemento più essenziale per la vita, ha detto, e dalla nostra capacità di custodirlo e condividerlo dipende il futuro dell'umanità.